in prova contraria appartenendo al Parlamento della Repubblica rappresentano quel territorio e forse le avrebbero potuto spiegare le ragioni per cui questo accorpamento è probabilmente sbagliato e non andava fatto e in ogni caso se andava fatto non poteva realizzarsi ai danni di una realtà che è importante, riconosciuta a livello europeo e che lei vuole penalizzare attuando un vero e proprio sopruso violando la stessa legge Grazie collega, vi prego di stare nei tempi per favore Passiamo all'interrogazione numero 3 2750 dei deputati Franco Bordo ed altri concernente elementi in merito al processo di dismissione alla residua quotazionaria del gruppo poste italiane di proprietà dello Stato con particolare riguardo alle ricadute sul servizio postale universale e sui livelli occupazionali Il deputato Bordo ha facoltà di illustrare la sua interrogazione, prego Grazie Presidente, signor Ministro Il piano industriale di ristrutturazione del gruppo poste italiane la riorganizzazione del servizio di recapito e il percorso di privatizzazione della società dimostrano di non essere in grado di garantire la tutela del servizio postale universale e di salvaguardare un diritto riconosciuto dal diritto comunitario e nazionale oltre che a garantire adeguati livelli occupazionali e i processi di innovazione richiesti dalla fase Su tutto il territorio nazionale cittadini e imprese stanno subendo oramai da parecchio tempo notevoli e pesanti disservizi Comuni, associazioni di consumatori, realtà produttive denunciano i rischi socio-economici legati alla progressiva rarefazione del servizio postale Invece di iniziative serie, concrete, tese a invertire una rotta sbagliata dobbiamo assistere a dichiarazioni che lasciano intendere che il suo Ministero mantiene l'obiettivo della totale privatizzazione dei posti italiani Signor Ministro, lei conferma questa volontà? Cosa intende fare per fermare la perdita di controllo sulla gestione dei posti italiani e delle sue attività rivolte al cittadino e al sistema imprenditoriale? La ringrazio. Il Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda Signor Presidenti, Onorevoli Deputati In merito allo stato di avanzamento del processo di dismissione di poste italiane il 31 maggio 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato il DPCM che definisce i criteri di privatizzazione e le modalità di dismissione di un'ulteriore quota della partecipazione detenuta dal MEF fra i quali il mantenimento di una partecipazione pubblica anche tramite Cassa Depositi e Prestiti non inferiore al 35% In data 24 giugno 2016 l'Assemblea degli Azionisti di CDP ha deliberato un aumento di capitale per circa 3 miliardi di euro riservato al MEF perfezionato dallo stesso mediante il conferimento di una partecipazione del 35% del capitale di poste italiane